Ciao Aiu! Allora, oggi parliamo di una cosa un po' strana, cioè strana, nel senso che uno non sa, aspetta, insomma. Prima di iniziare però voglio introdurre questa nuova cosa, questa nuova idea che ho avuto, che è quella di salutarvi, ecco, nei miei video, guardando qualche foto di qualche strumento che mi mandate. Potete mandare, io lo farò con uno strumento alla volta ad ognuno dei miei video, commenterò brevemente i vostri strumenti, ma sarà più un'occasione per mandarvi un saluto, ecco. E mi potete mandare le foto dei vostri strumenti su questo indirizzo e-mail qua, oppure su Facebook, se lo caricate, per esempio, su un hosting potete mandarmelo tramite un commento qui su YouTube, non c'è problema. Basta che me lo fate avere in qualche maniera e mi fate, e mi dite come volete essere chiamati. Perché magari non volete che dica il vostro nome e cognome, magari volete un nickname, non lo so, per qualunque motivo. Comunque mi fa piacere iniziare questa nuova iniziativa, e quindi faremo questa cosa. Voglio mandare un abbraccio e un grazie ai miei sponsor, che sono Aumsen, che fa meraviglioso hardware fatto in acciaio, in ottone e in alluminio, per chitarra. Poi voglio mandare un altro abbraccione anche a Max, della Pyramid, che a breve inizierà a fornirmi tutte le corde che utilizzo su tutti i miei strumenti, e vi farò tante recensioni anche di tutte quelle corde, che sono corde, che già conosco molto molto bene, sono corde di dischi meravigliose, e costano tra le altre cose poco. Un altro salutone lo voglio mandare a Dreamsongs Pickups, che sta facendo proprio materialmente i miei pick up per la mia PRS, e quindi un salutone, un abbraccio, lo voglio mandare anche ad Alberto, che poverino sta dietro alla mia testa, voi sapete io come sono, e quindi sono molto, lo sapete che sono molto 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 scocciano, molto molto esigente, insomma sono preciso diciamo, non si può dire che io non abbia le idee chiare, insomma. Comunque, passiamo subito a salutare Marco, che mi ha mandato questa meravigliosa, la foto di questa meravigliosa American Original, è uno strumento stranissimo, perché è una telecaster, però effettivamente è una Mary Kay, noi conosciamo tutti la Stratocaster Mary Kay, la prima Stratocaster, diciamo, custom color del 54, loro praticamente hanno fatto questa probabilmente limited edition, sì, è una limited edition di questa telecaster, praticamente con la colorazione della Mary Kay, ed è uno strumento, ecco, io in genere lo sapete, sono un fondamentalista, però questa è simpatica, perché ha un senso, ecco, immaginate di, a me piace la Mary Kay, mi piacciono i colori della Mary Kay, però mi piace la telecaster, e quindi potete, ecco, questa è una limited edition, è un po' complicato, sarei sicuramente un po' complicato trovarla, però in questo caso potevate avere la telecaster con le colorazioni Mary Kay, e mi piace tantissimo, che poi tra le altre cose il Mary Kay White è diverso dal Desert Sand, è diverso dall'Olympic White, insomma, è un colore un pochino diverso, e c'ha praticamente le specifiche tipo 54, ecco, con il corpo in frassi, insomma, molto 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 bella, un abbraccio e un saluto a Marco, per fare la stessa cosa, per vedere i vostri strumenti qui sul mio canale, per ricevere un mio saluto, potete mandarvi la foto dei vostri strumenti su questo indirizzo e-mail. Dunque, veniamo a noi, che cos'è? Cioè, che cosa voglio dire? Sembra una stronzata, anch'io pensavo fosse una stronzata in realtà, ma l'aria, ok, che c'è nel posto dove voi stipate, conservate, tenete i vostri strumenti, i vostri amplificatori, gli altoparlanti in particolare, influisce moltissimo sul modo di suonare dello strumento. Voglio, voi, ecco, molto meno sulle chitarre elettriche, molto di più sull'acustica, però anche sulle elettriche c'è qualcosa da dire. Avete mai notato che quando entrate in un negozio di strumenti, ecco, io adesso qui in questa stanza ho moltissimi strumenti, diciamo, ce ne sono sette là, otto, nove, dieci, unici, dodici, tredici, quattordici e quindici. Diciamo che all'esterno così ci sono quindici strumenti. La stanza è abbastanza piccola e quindi diciamo che l'ambiente in proporzione si può paragonare a quello di un negozio di strumenti, ok? Però io non avevo nessuno degli odori che si sentono in un negozio di strumenti. Questo perché l'aria della mia stanza era molto umida e quindi praticamente i miei strumenti non rilasciavano l'odore della resina naturale che c'è nel legno degli strumenti, perché praticamente era l'aria che emetteva acqua nello strumento probabilmente, non lo so per quale motivo. Comunque toccando il legno nudo che sta all'interno delle casse dei miei strumenti acustici praticamente sentivo un odore, non di muffa, però di umido, un odore secco di umido. Cioè secco di umido è strano, però l'odore è secco tecnicamente. E quindi sapevo che la mia stanza fosse... che questa stanza fosse umida pensavo non eccessivamente e invece poi ho pensato di prendere un deumidificatore che è questo aggeggio qua, questo è un Olympia Splendid Aquaria qualcosa, non mi ricordo c'era scritto qua ma ci ho tolto l'adesivo perché voi sapete che io odio le cose quando sembrano proprio nuove 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 comunque Aquaria Slim 10P se non mi sbaglio ho deciso di prendere questo affare qua come esperimento ecco non mi aspettavo molto mi aspettavo che quantomeno mi togliesse un poco di umidità dalla stanza ecco che l'aria fosse più salubre mi aspettavo questo ma non mi aspettavo una differenza diciamo sugli strumenti almeno a breve termine considerate che questo io l'ho preso da... ce l'ho da qualche giorno saranno tre giorni che ce l'ho qua e invece sono rimasto piacevolmente sorpreso perché in... ma nemmeno oggi diciamo già dopo solo una giornata che io l'ho tenuto acceso e mi ha tolto perché questi cosi praticamente si regolano almeno questo si regola sopra c'è un display e tu regoli la... la temperatura... la... non la temperatura... la... l'umidità che vuoi nella stanza e quindi poi quest'umidità che viene praticamente fatta condensare su un compressore tramite un compressore cade in una vaschetta e quindi vedi materialmente vedo tutta l'umidità che viene tolta dalla... dall'aria e... e io già ho eliminato... c'è una vaschetta di due litri già ho eliminato tre o quattro vaschette in tre giorni e quindi significa che funziona significa che l'umidità in effetti c'era io parto in genere quando è spento da un'umidità del 70% diciamo che l'umidità dell'ambiente perfetto dove potessi fare uno strumento acustico vale anche per l'elettrica però ripeto essendo tutte chiuse nel... nella vernice un po' di meno va dal 40 al 60% e quindi io praticamente ho il... lo regolo che si mantiene intorno al 50-55% e la differenza è... abissale nel senso che già dopo una giornata di funzionamento di questo affare qua io poi ho preso uno strumento dei miei, uno degli strumenti acustici e suona completamente in un altro modo e secondo me questo dipende da due cose sia dal fatto che sta perdendo umidità quindi tutta l'umidità che aveva accumulato negli anni stanno in una stanza umida che poi non è così eccessivamente umida ecco non ho... non ho muffa insomma non ho... però... come dire... sentivo sempre gli strumenti che suonavano un pochino... come se il legno ecco fosse troppo morbido e non vibrasse tanto ecco sostanzialmente e improvvisamente mi si è aperta questa... questa... questa gamma di suoni molto molto più ampia e gli strumenti hanno iniziato a suonare molto meglio e io avevo proprio questa cosa che... che... praticamente compravo gli strumenti da nuovi suonavano benissimo poi li portavo qua e iniziavo a suonare un pochino li tenevo un poco e improvvisamente smettevano di suonare bene iniziavano ad avere questo suono pesante questo suono poco... poco cristallino ecco da legno morbido proprio e adesso sto riguadagnando piano piano quel suono di chitarra nuova ecco quel suono che io associavo al suono di una chitarra nuova e credetemi c'è una grandissima differenza e la cosa come vi dicevo dipende secondo me da due fattori sia dal fatto che il legno vibra meglio perché diciamo trova una umidità ideale ma anche dal fatto che l'aria in effetti in fondo il suono sono vibrazioni dell'aria e quindi è probabile che l'aria vibri diciamo... se le vibrazioni il suono si propaghi nell'aria in maniera migliore quando entro diciamo un certo range di di umidità insomma detto... detto tra noi e quindi hanno iniziato a suonare bene anche... meglio anche gli amplificatori e le chitarre elettriche le chitarre elettriche danno un'altra sensazione ecco... in realtà quelle sensi diciamo... su quelle almeno verniciate alla poliestero alla poliuretanica si asciugano diciamo solamente all'esterno e non all'interno perché sono chiuse nella vernicella si dice che quelle alla nitrocellulosa invece siano più traspiranti e quindi si perda anche l'umidità del... del legno io questo non lo so non ne voglio parlare perché altrimenti va a finire a mano in faccia perché con... su questo discorso va sempre a finire a mano in faccia e quindi... la... la cosa è la... il... come dire... l'effetto sotto le mani diciamo quando tu la tocchi lo strumento sembra uno strumento nuovo ecco sembra uno strumento... non... perde quell'appiccicoso ecco quel... quell'effetto di... io avevo sempre questa... questa cosa che dovevo pulire gli strumenti ogni tanto perché diventavano proprio appiccicosi era proprio l'umidità ecco era l'umidità che si appoggiava sulla vernice e quindi diventavano appiccicosi e non... non... non mi accade più questa cosa e diciamo che quando prendo uno strumento o dalla... dalla parete o dalla rassaliera sembra sempre uno strumento appena uscito dalla... dalla custodia un altro discorso è quello dei... degli altoparlanti gli altoparlanti vibrano meglio quando non sono particolarmente umidi perché praticamente sono fatti di carte quindi se sono umidi effettivamente si ammorbidiscono quindi smettono di avere proprio tutto quel... quella... quella... quella vibrazione cristallina quella rigidità che poi ti permette proprio ti... promuove la propagazione delle... delle vibrazioni quindi anche gli amplificatori effettivamente hanno iniziato a suonare meglio un'altra considerazione che voglio fare che però sinceramente non ho ancora sperimentato è il fatto che chiaramente avendo una... una... una stanza un po' umida molto umida, un po' umida quello che è le corde evidentemente... cioè è chiaro che si ossidino si ossidino perché io... ragazzi io voglio farvi ragionare su una cosa io ho un tank qua dietro da... da due litri ne ho già tolti tre o quattro in qualche giornata cioè considerate che questo significa che nell'aria di questa stanza c'erano sospesi in goccioline tre o quattro litri di... di umidità tra l'aria e quella che poi è evaporato dalle superfici dagli strumenti e tutto il resto appresso quindi è molto cioè è tantissimo tre o quattro litri d'aria diciamo quattro litri sono due bottiglie di coca cola da due litri per farvi capire che non è poco cioè mica cazzi insomma e... e vi stavo dicendo una cosa... ecco e quindi è evidente che in un ambiente meno umido meno... più salubre le corde durano anche di più chiaramente se per esempio Simone voi lo conoscete Simone se non lo conoscete andate a vedere i miei vecchi video c'è qualche video con Simone Simone per esempio suda acido muriatico in quel caso non ci potete fare niente diciamoci la verità e una cordiera a Simone mi dura 20 minuti ecco quando viene qua e prova tutti i miei strumenti io praticamente il giorno dopo devo cambiare tutte le corde perché me le distrugge ma è un'eccezione a me per esempio una cordiera mi dura tranquillamente mesi e mesi perché io fortunatamente non sudo con le mani e anche quel poco di sudore non è acido e quindi non corrode le corde però sono abbastanza convinto del fatto che tramite questo... avendo diciamo un'aria più salubre un'aria meno umida sicuramente anche le corde dureranno di più perché tenderanno meno ad ossidarsi e io sono molto felice di questa cosa ho trovato un'ottima un ottimo diciamo modo per prendermi cura dei miei strumenti e mi piace la sensazione vi ripeto di avere sempre sotto le mani uno strumento come se fosse nuovo perché in effetti mi sono reso conto che sembravano sempre strumenti non solo molto vecchi ma strumenti diciamo vecchi e trattati molto male ma non male diciamo male in maniera sana nel senso che tu li usi tanto per suonare proprio strumenti che sono stati presi e buttati in là a caso diciamo e non è una bella cosa diversa è la condizione per cui lo strumento è molto utilizzato è stato magari trattato male perché è molto utilizzato e quello è molto molto differente è una sensazione diversa anche se a me vi devo dire la verità ultimamente mi starò facendo vecchio ma gli strumenti Relic diciamo in cattive condizioni non è che mi piacciono più tanto prima mi piacevano di più adesso forse solo le Stratocaster mi piacciono leggermente 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 invecchiate in realtà il poi la cosa si sente proprio a naso perché tu entri dentro a questa stanza e senti adesso ancora poco ma presto sicuramente sarà molto più evidente la cosa senti il l'odore del legno degli strumenti proprio della chitarra nuova ecco perché ce ne sono tante quindi c'è tanta aria c'è tanta umidità che evapora dagli strumenti e si porta un pochettino di quell'odore di di resina ecco che è naturale degli strumenti lo stesso odore che bene o male si sente nei negozi di strumenti ecco ed è una cosa meravigliosa inoltre noi eravamo che stiamo in questa stanza perennemente eravamo perennemente raffreddati e quindi tramite questa quest'aria più salubre c'è passato praticamente questo continuo dolore per esempio alle orecchie al naso insomma per il raffreddore sostanzialmente e poi si respira meglio la temperatura è migliore ma non perché questo riscaldi eh attenzione perché proprio l'aria è più salubre e quindi ehm proprio è un si respira meglio ecco si sta meglio proprio in in linea di massima e poi diciamo la temperatura che sia alta o bassa si sopporta meglio in sostanza eh quindi per oggi eh è tutto io vi saluto spero di avervi fatto eh felice con questa dritta diciamo questa cosa che ho scoperto ehm per oggi è tutto mi raccomando mandatemi le foto dei vostri strumenti su questo indirizzo email oppure se volete su facebook qui su su youtube dove volete ehm adesso è stato mi hanno attivato anche la scheda community dove io pubblico post sostanzialmente e potete vederla proprio tramite la pagina del mio canale eh sto pubblicando molto perché non lo so perché mi piace questa cosa della community ehm e trovate l'email anche su uno diciamo su un post di ieri eh per mandarmi le foto dei vostri strumenti io vi saluto per oggi è tutto ciao a you